Teenage Mutant Ninja Turtles della IDW del 2011, uscita in Italia nel 2013, parliamone finalmente insieme. Wabalaba dab dab e bentornati su una mamma mazzo, bentornati nella rubrica Tartaruga Ninja. Come promesso, tra un mese e l'altro, in attesa dell'uscita bimestrale regolare delle Tartaruga Ninja dall'IDW, edito in Italia da Panini Comics, che attualmente è un bimestrale di ben 11,90€, da libreria e fumetteria, cercherò di riempire gli spazi parlando dei primi numeri. Oggi parliamo del numero 1 e poi vediamo se far uscire i numeri successivi a cadenza settimanale o mensile, dipende dalla mia disponibilità onestamente. Ci tengo a parlare del numero 1 perché ha dei pregi notevoli che mi ha fatto appunto venire voglia di acquistarlo nel lontano 2013, ma ha anche dei difetti, ha anche una riscrittura delle origini che mi ha fatto storcere il naso non poco, al punto che quasi stavo per abbandonare la testata. Prima di cominciare, se ancora non l'avete fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, guardate le altre playlist oltre a tartarughe ninja ovviamente e condividete il video con tutte le persone che conoscete che hanno delle tartarughe in casa e commentate qui sotto con quello che ne pensate di questo video e delle tartarughe ninja in generale. Vi ricordo sempre che qua sotto in descrizione trovate anche gli altri miei social a cui potete iscrivervi per restare aggiornati su tutto quello che farò. Allora, tartarughe ninja 2011, dopo il boom del successo del cartone animato dell'87 che è lentamente scemato nel finire degli anni 90, dopo comunque il grande successo di tartarughe ninja 1 nel film del 1990, tartarughe ninja 2 del 91 e tartarughe ninja 3 del 1992-93 che non era all'altezza dei predecessori, pian pianino il successo delle tartarughe ninja è andato scemando, poi è stato riportato in auge dalla serie molto più terra terra del 2000-2002 se non sbaglio, in cui le tartarughe ninja si rifacevano molto alle origini fumettistiche del 1984 per poi ritornare a scomparire con gli anni a venire. Prima del successo del reboot del 2012 a cartoni animati di Nickelodeon, che io adoro tantissimo, sappiatelo, c'è stato questo reboot a fumetti che qua in Italia è arrivato due anni dopo, nel 2013, quindi un anno dopo la serie Nickelodeon. Allora, la prima cosa che mi ha colpito, ve la faccio vedere, questa è una delle tante variant con cui era uscito il numero 1, era che le tartarughe ninja avevano tutte le bandane rosse, esattamente come il fumetto originale di Kevin Eastman e Laird. Vedete, questo è Leonardo e questo è Michelangelo, lo si capisce ovviamente dalle armi, e hanno tutte la bandana rossa, e quindi mi aveva incuriosito questo ritorno alle origini, volevo prenderlo anche per questo. La storia si apre con delle tartarughe ninja che stanno già combattendo insieme a Splinter, tutte con questa bandana rossa, con un gatto mutante, dal nome Vecchio Diavolo, questo gatto che francamente è un personaggio che a me non è mai andato giù, non mi piace, però ovviamente io capisco che può non piacermi perché non l'ho mai visto in nessuna incarnazione precedente che richiama la mia infanzia, e quindi non ho gridato a ah, quello è il nemico che ho visto in quel cartone, in quella puntata, no, nemico nuovo, quindi ho subito un po' storto il naso, diventa comunque interessante, ma non è uno di quei nemici che poi prende fascino, eccetera, proprio resta fastidioso in ogni sua apparizione, a mio gusto. Notiamo che le tartarughe ninja non sono quattro, sono tre. Pare appunto, come si evince dalle pagine successive, che Raffaello sia disperso proprio a causa di Vecchio Diavolo, e quindi queste tre tartarughe stanno cercando il loro fratello perduto, e si scoprirà nei numeri successivi che è proprio per questo, nella riscrittura di queste origini, che le tartarughe ninja inizialmente avevano tutte le fasce rosse, per omaggiare il fratello perduto. Poi quando si riuniranno, poi ne parleremo nei prossimi numeri, quando si riuniranno, ognuno prenderà il proprio colore. Perché quindi il colore di Raffaello è proprio il rosso? Lo scopriremo anche qua nei prossimi numeri, perché ci sarà una doppia origine, un'origine scientifica, e un'origine, diciamo, quasi totemica, quasi metafisica. Avete presente la run di Spider-Man in cui lui scopriva di essere un animale totemico? Di non essere stato morso dal ragno per caso, ma per una serie di eventi che lo fanno diventare una sorta di, non lo so, persona scelta dal ragno? Ecco, qua c'è qualcosa di simile. C'è la parte scientifica, c'è il mutageno, ma c'è anche un'origine un po' più misteriosa. Forse per ovviare alle origini scientifiche che non giustificano assolutamente la bravura delle tartarughe ninja nelle arti marziali. Vado a spiegare meglio. Dopo che scopriamo nel primo scontro tra Vecchio Diavolo e le tartarughe ninja, dopo che le vediamo in azione, scopriamo che solo 18 mesi prima le tartarughe erano ancora delle normalissime tartarughe. E già qui io ho storto il naso. Come 18 mesi? Ma scusa, non sono teenage? O si calcolano gli anni delle tartarughe come quelle dei cani? Non lo so, spiegatemelo. Fatto sta che questa cosa mi aveva fatto girare pesantemente i coglioni, come dicono i francesi. Vabbè, scopriamo che c'è April O'Neil che è al suo primo giorno di stage alla Stockgen, quindi viene introdotta April O'Neil esattamente come nei fumetti originali, quindi non è una giornalista ma è una scienziata. Allo stesso modo si capisce che è giovane perché sta facendo uno stage, quindi è molto giovane, cercano di dargli un'età indefinita che potrebbe approssimarsi tra i 17 e i 20 anni, perché comunque lo stage lo fai a quell'età lì. E questo serve sia per dare un approccio un po' più giovanile al personaggio, che poi vedremo essere stata ancora più ringiovanita nel cartone animato del 2012, ma allo stesso tempo aggrapparsi ai fumetti originali come hanno fatto i cartoni animati del 2002, dove April lavorava per Baxter Stockman. Qui vediamo appunto che siamo alla Stockgen, che vediamo tramare nell'ombra, diciamo dall'alto del suo ufficio, Baxter Stockman, che anche qui esattamente come nel fumetto originale è un afroamericano, e esattamente come nel fumetto originale è un figlio di puttana, non è assolutamente la macchietta che conosciamo nel cartone dell'87, uno dei tanti lacche di shredder, imbranato, che combina cavolate, no, è un nemico indipendente da shredder, davvero viscido, davvero temibile. La Stockgen e Baxter Stockman sono in combutta con un certo generale krang, vi dice niente, per un esperimento che ha a che fare con un non ben identificato mutageno, che dovrebbe avere due scopi militari, uno è quello appunto di un siero psicotropico, che viene testato su questo ratto di laboratorio che si chiama Splinter, che dovrebbe appunto separare la coscienza dall'istinto animale, non si sa se poi per lo scopo sarebbe quello di usarlo sugli esseri umani o sugli animali, quindi sugli esseri umani per renderli più animaleschi, o sugli animali per renderli più intelligenti, non ci è dato ancora saperlo, e scopriamo che l'altro scopo militaristico è appunto usare le tartarughe perché hanno una corazza, quindi fondamentalmente creare dei soldati tartaruga per il generale krang per combattere, perché appunto questa loro corazza promette di essere naturalmente resistenti. Ora, non è tanto l'origine di laboratorio che mi fa storcere il naso perché non me ne frega niente, anzi, è molto interessante, l'abbiamo anche vista in quell'orrendo film del 2014, l'origine di laboratorio. È strano il fatto che siano solo passati 18 mesi dallo stato attuale delle tartarughe ninja, in questo modo non sono teenage, praticamente ok, si sono sviluppati in un anno perché il mutaggine è così e fino a qui va bene, ma perché mentalmente non hanno un anno? Perché mentalmente sono appunto adolescenti e perché Splinter mentalmente sembra, innanzitutto sembra già cosciente anche nello stato da ratto attuale, ma quello potrebbe essere appunto questo famoso siero psicotropico che separa il lato animale dal lato umano e quindi questo Splinter potrebbe essere molto intelligente per questo motivo, perché è stato reso, gli è stata data una coscienza ancora prima che avvenisse contatto col mutaggine, quindi questo può avere un senso, però perché il ninjitsu insomma verrà spiegato più avanti in una maniera un po' strana, lo vedremo poi nei numeri successivi. Per quanto riguarda invece i nomi, i nomi in questa edizione, così appunto come nell'orrendo film del 2014, non sono stati dati da Splinter, che ha trovato un libro del rinascimento nelle fogne, ma gli sono stati dati da April stessa, quindi Splinter è stato chiamato Splinter dalla collega di April, Lindsay, proprio perché Splinter vuol dire scheggia, ma to splint vuol dire anche separare, questo siero che stanno studiando sul ratto serve a separare il lato animale dal lato umano, mentre i nomi Leonardo, Donatello, Michelangelo e Raffaello sono stati dati da April in persona, che stava studiando la storia rinascimentale tra i suoi percorsi di studi, ecco, quindi da un certo punto di vista ha anche più senso. Non capisco come facciano da animali a ricordarsi i nomi dopo la mutazione, ma si sa, per carità, non è che va spiegato tutto, e ovviamente siamo in un mondo fittizio e molto fantascientifico. Nel frattempo questo numero ci spiega anche, ci fa anche vedere dove è finito Raffaello. Vediamo che Raffaello è stato rapito da vecchio diavolo quando era ancora un semplice gatto e quindi è stato separato dai suoi fratelli. Vediamo che non ha nessuna bandana addosso, va per cassonetti, coperto con un impermeabile per non far capire che non è un essere umano, quindi l'omaggio anche a Raffaello con l'impermeabile come nel film del 1990, vediamo che sta assistendo a un episodio di violenza domestica, un padre ubriaco che sta picchiando a sangue il proprio figlio. L'istinto molto, diciamo, irascibile di Raffaello, comunque il fatto che non pensi molto a una strategia ma agisca, salta fuori, il rompe in casa di questo ragazzo e lo difende dal proprio padre, picchiando il padre ovviamente. Questo ragazzo si scoprirà essere Casey Jones e da qui nasce l'amicizia tra Raffaello e Casey Jones, quindi in una maniera riscritta anche questa, una maniera che mi è piaciuta molto perché comunque va a toccare anche un tema insomma abbastanza terreno, cioè il tema della violenza domestica, al tema di padri molesti, ubriachi che picchiano i figli, insomma non va proprio a menarla per il sottile questo fumetto e questa cosa mi è piaciuta molto. Vediamo che Casey propone di andare, di suggellare questa amicizia andando a mangiare qualcosa insieme fuori perché il frigo era vuoto e lungo la strada magari pestare qualcuno e si chiude il numero con Casey Jones che indossa già da subito la sua maschera da occhi e le sue varie mazze da baseball, da cricket per pestare i vari teppisti che trovano sulla strada. Vediamo che anche si rende omaggio alla serie dell'87 dando a April O'Neil una camicia di colore giallo, quindi ecco. ci sono tante citazioni sia dal punto di vista della storia che dei disegni. Fatemi sapere se voi avete letto questo numero, se state seguendo ancora questa serie o se comunque l'avete seguita per un po' perché sappiamo tutti che ha avuto poi lungo il percorso a livello editoriale degli stop, degli arresti che possono fisiologicamente far passare la voglia a chiunque di seguirla, quindi fatemi sapere se comunque ne avete avuto a che fare, se questo video vi ha fatto ritornare la voglia di prenderla in mano e noi ci vediamo ovviamente nel prossimo video per parlare del numero 2. Arrivederci.